Iniziamo da un pozzo, illuminato da un unico lampione a gas. È un pozzo solo e dimenticato, che siede in mezzo a un grande parco, di una grande città. È un pozzo vecchio, sicuramente più vecchio del parco, e anche più vecchio della città stessa. Dal suo punto di vista, la città gli è cresciuta attorno. Ma ormai il pozzo è secco da qualche secolo, e nessuno lo usa più per bere, lavarsi o chiacchierare con la propria amata. Anzi, tutti si sono convinti che la città sia nata attorno al porto, come tutte le città per bene. Tutti, tranne un bambino. Un bambino elfico, dei capelli rossi come il fuoco e dagli occhi verdi come un prato. È notte, e il bambino sa che il pozzo è importante. Eppure, ha un po' paura. Non è ancora una paura speciale, solo sua. È la stessa paura di tutti i bambini che si trovano svegli di notte. Una paura fatta di artigli tra i cespugli e zanne tra gli alberi. Ma il piccolo elfo scuote la testa e prova a scacciare le zanne e gli artigli che la sua mente immagina, mentre solleva le assi del pozzo. Strizza gli occhi, osservando all'interno con attenzione, il volto corrucciato dallo sforzo. Là, sul fondo, qualcosa scintilla nel buio. Il bambino allora si fa coraggio e si cala di sotto. Una porta lo aspetta sul fondo del pozzo. Una porta alta due metri, di quello che sembra essere mercurio. Una porta come il bambino non ha mai visto. Fatta più per decorare una reggia che per aprirsi, soprattutto per aprirsi sul fondo di un pozzo. Cavalieri e draghi si rincorrono sulla sua superficie, senza lasciare spazio a una toppa, un chiavistello o a un lucchetto. Il bambino alza la mano, stupito, e l'appoggia sul metallo, mentre il pozzo canta, contento di essere ricordato, anche se per poco. Il bambino alza la mano, stupito, e il bambino alza la mano. Il bambino alza la mano, stupito, e il bambino alza la mano. Benvenuti in Storia di Vapore, la prima campagna di Actual Play, di due draghi al microfono. È una campagna sperimentale, perché è la prima volta che facciamo e registriamo una cosa del genere. Quindi stiamo provando microfoni, setting, come giocare, quanto è il tempo, quant'è la durata e così via. E anche l'ambientazione è un'ambientazione completamente originale, che ho scritto io, che sarò il vostro dungeon master per questa campagna. L'ambientazione si chiama Kumo, ed è un mondo fatto completamente di isole volanti, che non ha magia, o meglio, non aveva magia fino a dieci anni fa, quando all'improvviso dei mostri hanno iniziato ad apparire sulle isole più esterne e più lontane dalla civiltà. E quindi questa società, arrivata ormai alle soglie della rivoluzione industriale, si è trovata ad entrare in contatto con mostri e magia che non aveva mai conosciuto prima. Questi mostri, quando vengono uccisi o quando muoiono, lasciano un oggetto magico a sua volta, che è diventato parte di una fiorente economia su Kumo, che poi scopriremo man mano che andiamo avanti. Non è quindi la tradizionale campagna di cappe spada di D&D, e non è tradizionale neanche il party, perché infatti per questa campagna abbiamo soltanto due giocatrici, invece del solito quattro previsto dal manuale del giocatore. Giada, vuoi presentarti per prima? Va bene. Allora, io sono Giada, su Instagram di Endice, e sono l'altro drago di questo podcast. Sono un'appassionata giocatrice di D&D, ma anche di altri giochi di ruolo che mi diverto a provare, e sono una pedagogista, faccio l'educatrice come mestiere, e non so cos'altro dire in realtà. Va bene così. Mentre invece Viola, presentati. Ciao a tutti, io sono Viola, e mi trovate su Instagram come Viovagram, e sugli altri canali come Lady Viova. Io mi occupo di storie e di viaggi nella vita, di storie perché scrivo e perché faccio la editor, quindi mi occupo delle mie storie ma anche di quelle degli altri, e di viaggi perché organizzo banalmente viaggi e perché mi piace tanto viaggiare. Quindi sono veramente contenta di essere qua e di partecipare a un'altra storia insieme ai due draghi al microfono. Curicini. Mentre Giada mima un curicino per il podcast. Va bene, allora se voi siete pronte con i vostri personaggi, possiamo incominciare. Le festosa fusa del motore del primo dirigibile mai costruito sembrano salutare il porto mentre la poderosa aeronave rompe il mare di nubi ed emerge davanti alla città di Ultima. La città si estende proprio sul limite dell'isola volante e ha un aspetto incantevole. Le alte case dai vetri multicolori emergono dalle nubi viola, rosse e blu, riflettendo la luce del sole al tramonto. Pennacchi di fumo grigio e nero prodotti dai tram che sferragliano per le strade cittadine si mischiano senza soluzione di continuità con le nuvole, mentre le persone mettono fine alla loro giornata di lavoro e si dirigono verso casa. Per i passeggeri del dirigibile, vedere il porto avvicinarsi a uno spettacolo mozzafiato, ma per qualcun altro a bordo il momento è un po' più agitato. Il capitano del dirigibile, infatti, guardandosi attorno negli ultimi giorni, si è reso conto che c'è un passeggero in più, anche se non ha ancora capito chi. Viola, voglio sapere come ha fatto il tuo personaggio a salire su una delle navi più esclusive probabilmente dell'intero mondo attualmente. Allora, io in realtà sono riuscita a salire fingendomi Curcio Innocenti, che è un famoso gnomo della nobiltà di Ultima. L'unico problema è che di Curcio Innocenti ce ne sono due sul dirigibile. Ok, perfetto. Diciamo che approfittato di un momento di distrazione, insomma, sono riuscita ad entrare lo stesso e anche l'altro Curcio Innocenti perché non sono molto sveglie le guardie, però siamo in due. Quindi immagino che adesso l'ansia si faccia sentire mentre guardi il porto avvicinarsi e sai che devi passare dalla passerella uno a uno e si accorgi l'ansia. Aspetta, ma ce ne sono due. Quindi come vuoi cavartela? Cerco di scendere per prima. Io mi metto proprio lì perché vuoi essere la prima a uscire. Va bene. Quindi ti posizioni davanti agli altri. Giusto perché così iniziamo a giocare a Dungeons & Dragons. Fammi un tiro su... Come la vedi? Più come performance? Nel senso che ti muovi sicura in mezzo agli altri e così? Oppure più furtiva che ti metti davanti alla porta senza farti vedere tenendosi nascosta? Furtiva perché comunque non voglio attirare su di me l'attenzione. Ok, vai. Allora, dieci. Dieci, va bene. Tra l'altro mi sono appena dimenticato ma in realtà per questa campagna poi vi dirò i livelli di difficoltà dei tiri prima che tiriate. Quindi appena il mio cervello si abitua al nuovo metodo poi tenteremo di farlo. Se vedete che non ve lo dico chiedetemelo prima di tirare così mi date una mano. Lentamente la città si avvicina e vedi la folla da un oblò proprio vicino all'uscita. Vedi la folla di persone che si è radunata al porto aspettando questo che è fondamentalmente una delle meraviglie tecnologiche di questo secolo. I marinai pian piano accostano il dirigibile al molo e iniziano a lanciare gomene dalle parti scoperte del ponte per legare l'aeronave al traliccio che si estende fondamentalmente nel vuoto. E il porto di per sé è un'altra piccola isola volante davanti alla città di Ultima. Quindi siete attraccati già nel porto superiore della città, quello dove c'è la prima stazione dove arrivano fondamentalmente tutte le navi più importanti della città stessa. La passerella si abbassa e tu dici ok finalmente ce l'ho fatta posso uscire subito? Sei pronta ad uscire? E qui volevo già iniziare ad usare l'altra regola per questa campagna. Cioè brucio il mio dado magia che è un dado 4, ne abbiamo una testa sia il dungeon master che le due giocatrici e ce lo passiamo tra di noi. E quindi il mio dado adesso poi ricordatevi che potrete usarlo voi e ne avete tre invece che soltanto due. E proprio quando dici ok finalmente ce la posso fare, sto per uscire, senti una mano che cala sulla tua spalla. Ehi aspetta un attimo, ti dice il capitano della nave. È un elfo dalla carnagione pallida, i capelli biondi e un paio di baffi. Ti guarda con l'aria sospetta e dice tu vieni con me. Io sorrido, mi gratto un po' la folta barba nera che ho e gli dico certo che problemi ci sono, c'è qualcosa? No, è semplicemente abbiamo una persona di troppo sulla nave e quindi vorrei fare alcune domande a tutti prima di lasciarvi scendere. E vedi che nel frattempo le guardie stanno intercettando gli altri passeggeri. Che peccato, io avrei proprio un appuntamento urgente con un'importantissima personalità di ultima che non vorrei far aspettare. Non c'è nessun problema, ci mettiamo soltanto un attimo. Se può accomodarsi signora qui, accanto agli altri passeggeri, e vedi che non sembra intenzionato a lasciarti andare. Come vuoi provare a... Ma la nave è già traccata? La nave è già traccata, sì, e non c'è nessuno che sta fermando le passerelle, c'è solo il capitano che ti ha visto vicino all'uscita e quindi ha deciso di fermarti. Lo seguo, se vedo che si volta, provo a scappare, silenziosamente. Ok, tira su furtività. Allora, direi che per una cosa del genere il livello di difficoltà è... Allora, perché mi ero ripromesso di usare soltanto multipli di 5, quindi facciamo 10. Ho fatto 24! Ok, va bene, perfetto. Quindi senza problemi, appena lui si gira, ti volti e schizzi fuori dall'aeronave. Olga, anche se il tuo contatto, il tuo nuovo apprendista non te l'ha detto, stai aspettando il re del crepuscolo. Probabilmente perché sei anche interessata, o sbaglio, al fatto che sia una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche di questo secolo. Sì, assolutamente, ne sono molto affascinata e infatti sono lì che passeggio sul molo, guardando il re del crepuscolo avvicinarsi e sono tutta ingobbita, come di solito. E stringo gli occhi sotto alle lenti spesse degli occhiali per guardare meglio l'orizzonte e vedere appunto se scorgo qualcosa mentre si avvicina questo gigante aereo praticamente. Tira su percezione. Anche qui direi che è cinque come livello di difficoltà, visto che è abbastanza grande. Sei. Sei? Ok, 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 per un pelo. Stringo gli occhi proprio forte sotto le lenti, le abbasso un attimo e... E proprio in quel momento l'aeronave rompe la superficie delle nubi ed emerge davanti alla città. E vedi che è diverso dai dirigibili, Olga ovviamente non ne ha idea, ma noi giocatori riusciamo a vedere che è diverso dai dirigibili a cui siamo abituati. Il pallone è incapsulato nell'intelaiatura metallica della nave che scende a ricoprire anche lo scafo. È uno strano ibrido tra una nave volante e un dirigibile, ma vedete proprio queste intelaiature di ferro che ricopre la maggior parte della struttura per intero. E quindi l'apparenza sotto è la stessa di un nostro dirigibile, ma in realtà c'è proprio una nave incapsulata in mezzo tra il pallone e la piccola cabina al di sotto, la piccola gondola. Noti anche che per propulsione usa due gigantesche eliche sul lato posteriore che lo spingono in avanti e non ha nessuna forma di vele. È il primo in assoluto, la prima forma di locomozione completamente autonoma. Navi volanti ci sono a cumo e usano un particolare materiale per galleggiare che riempie le stive e invece capisci subito con la tua competenza tecnica la quantità di spazio che un dirigibile del genere può trasportare. E secondo me è anche la quantità di soldati. Quindi capisci subito le potenzialità di un dirigibile del genere. Attracca, segui tutte le operazioni di attracco e poi ti rendi conto che all'interno sta succedendo qualcosa. La gente non esce e vedi anche un ognuomo, non so quanto giovane in realtà, quanto giovane è Curzio Innocenti? Curzio Innocenti no, è mezza età. Quindi vedi un ognuomo di mezza età che sta per uscire e viene fermato da quello che sembra essere il capitano della nave, riportato dentro per un attimo e poi sprinta fuori di corsa e lo vedi che inizia a correre giù dal molo e inizia a sospettare che il tuo apprendista stia arrivando di corsa. Sono un attimo imbarazzata. Io mi rendo conto che Olga è Olga. Se volete in realtà mi piace come scena che c'è un attimo in cui i vostri occhi fanno contatto e quindi lei dice oh no, è lui il mio apprendista e tu dici oh oh mi sa che è lei. Ci sta. Esatto, cioè io mi immagino che, beh innanzitutto quando prima guardando il dirigibile mi sono accorta della grande potenza che ha, ho strabuzzato un attimo gli occhi come cioè se proprio stassi vedendo la cosa più bella del mondo, quando mi sono accorta che qualcosa non andava mi sono accigliata quando ho visto questo tizio correre verso di me e ho realizzato, ho avuto proprio un attimo di cedimento in cui ho iniziato a scuotere la testa e ho detto no ti prego no. Lo fisso. Io vedo che mi fissa, allora vado nella sua direzione facendomi strada tra la folla. Sì e vedi che in realtà alcuni ti battono mani sulle spalle e sembrano, non hanno capito che stava succedendo qualcosa e quindi iniziano a gioire dicendo adesso escono tutti, questo è il primo che devo uscire, no? Arrivo da Olga e le dico Olga. Curzio. Curzio, cioè in realtà ametista, però ne parliamo dopo, dobbiamo scappare. Oh iniziamo alla grande. In quel momento dalla nave si sente fermatelo, fermatelo, è un clandestino, fermatelo, mentre le guardie iniziano a correre fuori e vedete questi tre elfi vestiti in quella che sembra essere la divisa di una qualche marina, anche se non una marina militare, non hanno pistole, non hanno armi da fuoco ma impugnano lance e quelli che sembrano essere fondamentalmente manganelli e corrono giù dalla passerella per raggiungere. Io mentre scappo mi abbasso, mi tolgo la barba e tipo cerco anche di togliermi il cappuccio e la parrucca che ho, insomma, il travestimento anche per confondere in questo modo. Olga tu vuoi fare qualcosa per distrarre o rimani lì sbigottita? Rimango abbastanza sbigottita e voglio fare una domanda a te, Master. Il porto è lontano da casa mia? Sì, abbastanza distante. Cioè devi prendere per forza il treno per andare e venire dal porto. Ok, perché abbiamo detto che la mia motoretta è ancora da riparare, è vero? Sì. Maledizione. Ok, allora mi giro verso ametista e faccio tipo maledizione, proprio adesso che la mia motoretta è rotta. Dobbiamo correre, io non sono molto in grado di correre. Anch'io la guardo e dico maledizione. Visto che comunque ha cambiato praticamente aspetto nel giro di pochi minuti e c'è confusione, la gente non capisce, vi rimane un attimo spaventate, si allontana dalle guardie. Non vi faccio tirare, semplicemente vi mettete a correre tra la gente e vedete altre persone che comunque spaventate dalle guardie all'improvviso che urlano e indicano che si stanno spostando attorno a voi e riuscite ad uscire tranquillamente dal mall. Però questa cosa prima o poi tornerà a farsi vedere la campagna. Io appena possibile prendo un braccio ad ametista e la porto in un vicolo dove mi accorgo che c'è meno gente. Vi avvicinate appunto ai pochi edifici che ci sono attorno alla stazione, trovi un vicolo appartato e vi nascondete lì dietro. Io batto le mani e dico, Olga, siamo state bravissime! Ehm, senti, allora, innanzitutto io mi aspettavo un curzio giovane e atletico. Beh, sull'atletico ci siamo, più o meno. Ma in realtà ti va di fortuna perché non ero così felice di avere un apprendista uomo. Preferisco un apprendista gnoma. E tra l'altro questa è una bella coincidenza, c'è anche il fatto che siamo gnome tutte e due. Non è una coincidenza mica da ridere, eh. Sì, mi dispiace aver dovuto mentire sulla mia identità, ma sai, meglio sempre girare in incognito quando si può. Eh, certo, è stata una bella sorpresa. È andata di fortuna che sono così astute e sono riuscita comunque a capire subito che si trattasse di te. Però non va molto bene questa cosa che mi metti nei guai fin da subito perché io prendo un apprendista perché l'apprendista mi deve aiutare ad uscire da tutti i miei guai, non a entrare in guai più grossi. Ci siamo messe alla prova, insomma. Sarà solo tutto in discesa, un'ora in avanti. Vedremo, vedremo. Direi che da qui possiamo tagliare direttamente, visto che vi siete già iniziati a parlare, abbiamo due opzioni. O potete trovare un piccolo caffè fuori dalla stazione e fermarvi lì a chiacchierare oppure prendere il treno e quindi passare direttamente a ultima, vera e propria. Olga, tu sai che non è l'unico appuntamento che hai in giornata, ma anche un giovane capitano della polizia ti ha contattato. Ha detto che probabilmente ha un lavoro per te nella città e tu immagino che abbia accettato, visto che l'ho deciso io. Maledizione. Tiro fuori il mio orologio da taschino. Che ore sono? È il tramonto, quindi sono verso le cinque, cinque e mezza della sera. Avete ancora una mezz'oretta di luce prima che il sole scompaia completamente. E l'appuntamento che ora è? L'appuntamento per quando vuoi tu. Cioè lui mi ha proprio detto che posso andare quando voglio io? No, tu giocatrice vuoi scegliere l'orario che preferisci. Cioè se hai piani per intervistare la tua apprendista o vuoi farle vedere qualcosa di particolare nella città o volete prima trovarvi un caffè tranquille. Ok, facciamo che l'appuntamento è per le otto. Ok, va bene. Allora, vabbè cara, direi che possiamo prendere il treno e andare nella zona più bella di Ultima. Ci sei stata ad Ultima, no? Parecchi volte. In realtà è la prima. Ah, c'è sempre una prima volta per vedere queste bellezze. Ultima è una città veramente particolare. La vista dal treno che vi porta a Ultima, effettivamente mozzafiato. Due o tre grattacieli si spingono già sopra il resto delle nuvole. Ultima è cresciuta mostruosamente negli ultimi dieci anni. Perché è diventata la frontiera per quelli che sono fondamentalmente i cacciatori di Cryptorei. Uomini e donne, elfi e elfe, gnomi e gnome. Che danno la caccia a questi mostri che sono apparsi come per magia negli ultimi dieci anni e che nessuno sa controllare. Una volta che arrivate, potete benissimo dirigervi tranquillamente verso la zona più bohemienne della città e trovare un caffè. Quindi tagliamo direttamente a voi sedute in uno di questi tavolini di metallo, intarsiato, con davanti un caffè fumante a testo o quello che volete. Io ho preso una tisana. Io un caffè. Bene Olga, sono veramente felicissima di questo lavoro, di questa cosa che ho trovato sul giornale. Ma di che cosa si tratta? Per il podcast. Giada sta mimando una tazzina di tisana con le mani. Allora, mentre porto la mia tazza di tisana al volto e mi si appannano gli occhiali, tu hai accettato questo lavoro senza sapere bene che cosa comporti? Non c'erano molte specifiche sull'annuncio, insomma, so di che cosa stiamo parlando, ma se hai più dettagli sono contenta di saperli. Porto la tazza al tavolino, la guardo negli occhi, mi tolgo la lente, aspetto, mi pulisco le lenti appannate con le mani, poi strizzo gli occhi e faccio, si tratta di cacciare criptorei, pensi di avere il fegato per farlo? Io continuo a guardarla fissa negli occhi e le dico, sì. Ok, la prima domanda che avevo per te era, se tu sapessi leggere? Io scoppio a ridere. E le rispondo, sì, sì, so leggere. E ti piace farlo? Diciamo che l'ho fatto spesso quando ero una piccola gnoma, ultimamente un po' meno, ma... Bene, perché sai, i miei apprendisti si devono occupare anche di scartoffi e leggere, insomma, contratti e cose del genere, quindi ho bisogno di una persona preparata. Hai una relazione con qualche uomo? Una relazione fissa? Scoppio a ridere un'altra volta. Insomma, io... Io non sopporto il genere maschile, ecco, quindi insomma, diciamo che più ci stanno all'arca, meglio è. Scoppio a ridere ancora e rispondo... Sola. Completamente sola a questo mondo e in tutti i mondi. Bene, 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 bene. Hai qualche allergia alla polvere, alle muffe, alla ruggine? Qui la guardo un attimo a sorpresa perché sta facendo delle domande assurde senza alcun nesso logico tra l'una e l'altra e dico, no, qui non sappia nessuna allergia. E hai ovviamente disponibilità economiche in grado di sostenere il tuo vitto e anche il mio. E c'è un attimo di silenzio nel caffè, mentre anche i camerieri notano l'attenzione che pian piano sta aumentando al tavolo e si ritirano senza avvicinarsi. E qua la guardo e dico, ma non dovresti essere tu a pagare me? No, perché un apprendista apprende. Io ti sto donando il mio sapere e le mie competenze e potrei costruirti delle splendide armi. Ok Giada, però non siamo in Italia. Io ho una domanda al master. Posso decidere io se ho questo denaro? Sì, sì, in base a quello che abbiamo già detto della backstory. Però non voglio cedere così facilmente perché mi sembra uno sfruttamento bello e buono, quindi le dico, beh, se proprio dovrò pagarmi qualcosa per me, sì, sono disposta anche un po' a, insomma, però veniamoci incontro, se no tutte quelle scartoffe e non so chi, cioè, come si possono risolvere, insomma. Beh, possiamo fare così che la maggior parte del ricavato di ciò che faremo andrà e un buon 20% andrà a te. E il ricavato di cui si parla è una notevole cifra. Gli oggetti che i criptori lasciano quando vengono finalmente uccisi sono di inestimabile valore perché sono oggetti magici. E in un mondo senza magia anche soltanto un oggetto che in un'altra campagna sarebbe completamente comune, qui cambia completamente le vite di chi lo trova. Quindi per i cacciatori di criptori è anche facile arricchirsi piuttosto rapidamente se hanno fortuna con la caccia. Affare fatto. Non mi interessa quanto ricaveremo da questa storia. Basta che non devo sborsare tutto quello che ho fin dall'inizio. No, no, non credo. In quel momento, quando finalmente avete raggiunto un accordo, un giovane capitano di pulizia si avvicina trafelato al caffè. Perché per questo è proprio il caffè dove ovviamente gli hai dato appuntamento, Olga. Si avvicina un attimo e vedi che rimani indeciso a un paio di passi di distanza se avvicinarsi e disturbarvi o meno. Ma quando si vede che la vostra conversazione rallenta un attimo, si spinge quegli ultimi passi. Signora Olga, è successa una cosa terribile. Allora, di solito a metà di un podcast di Actual Play c'è sempre una parte in cui si fa una qualche pubblicità, no? Perché la pubblicità serve per sostenere il podcast e servirà anche a noi in futuro. Quindi questo spazio poi diventerà lo spazio della pubblicità. Di solito è anche lo spazio in cui il master può dire un po' quello che vuole senza le sue giocatrici. Ma Giada non è d'accordo. Ma Giada non è d'accordo. Quindi abbiamo escluso Viola per questo segmento. Passiamo io e Giada. Stiamo registrando una volta finita la campagna, ma voi lo ascolterete oggi. Esatto. Noi siamo dal futuro e sappiamo che in realtà è venuta molto meglio di quanto ci aspettassimo. Sì, è andata bene. È andata bene, è stato divertente. Sì, esatto. L'abbiamo fatto come una cosa sperimentale che abbiamo deciso di registrare più che altro per provare fino in fondo tutta l'esperienza, ma è venuta molto molto bene. Tra l'altro la cosa più sperimentale di tutti è stato il fatto che io ho dovuto creare un'avventura che durasse al massimo quattro ore, perché avevamo quattro episodi. Poi in realtà abbiamo sforato di quasi un'ora e vedremo se nell'editing rimarrà questa cosa. Sì, mi sono grattato la gamba e ci sarà il rumore, ma tanto ormai. Però è interessante, cioè è venuta proprio bene come avventura e sono strasoddisfatto. Sì, anch'io sono soddisfatta anche perché ho sentito la puntata che voi state ascoltando adesso in anteprima e mi è piaciuta molto. Sì. Sì, così tranne infatti quello di Tataio che non ho la mia più pallida idea di come si editi dell'audio per una roba del genere. Infatti, infatti molto meglio di quanto mi aspettassi. Quindi a questo proposito voi iscriveteci a draghi.microfonochioccioagmail.com oppure sempre magari iscrivete su Instagram taggando anche Dien Dice, Biovagram ed Emilio Palmerini, soprattutto lui che ha come sempre il profilo più attivo di tutti. E in questo modo, insomma, ci farete sapere cosa ne pensate anche voi di questo esperimento. Poi noi attendiamo, insomma, qualcuno che ci faccia da sponsor per i prossimi episodi. Per questa sessione, almeno non dobbiamo inventarci cosa dire. No, comunque qualcuno che ci faccia da sponsor per i prossimi episodi, anche perché vorremmo che questa campagna di storie di vapore e altre campagne che abbiamo in mente, insomma, possano essere portate più spesso su questo canale. Però chiedono tempo e quindi... Sarebbe bello arrivare a avere un budget per farle settimanali e pagare anche gli attori, tra virgolette, chi partecipa, gli ospiti, grazie, chi partecipa alla campagna. Quindi, niente, ragazzi, se voi avete qualche sponsor in mente, noi siamo... Se voi avete soldi che volete lanciarci... Siamo pronti a venderci a chiunque, anche a Dio. Qualsiasi cosa. Va bene, adesso vi lasciamo tornare al podcast, alla storia, a Kumo, non lo so, dobbiamo trovare anche una catchphrase per la chiusura. Mi fermo qui, ma dobbiamo smettere di parlare. È successo una cosa terribile. E in quel momento notate il sudore che imperla la fronte e i capelli neri appiccicati sotto al berretto dell'elfo. Oh, capitano, la stavo aspettando. Cos'è successo? Sai, il lavoro che... Le avevo detto? Eh, sì, sì. Ha... Pena peggiorato. Posso sedermi con voi? Ma certo, certo. Vedi che... Guarda uno dei camerieri, gli fa un cenno, il cameriere avvicina una sedia, lui si siede, scaccia il cameriere con una mano, mentre gli chiede se vuole qualcosa da bere, e fa... Temo che ci sia un criptorio nel parco, nel parco principale di Ultima. Ma questa è una splendida notizia. Immagino per voi, ma è scomparso un bambino. Oh. Nel parco. Beh. E quindi volevo ingaggiarvi, signora Olga, soltanto per indagare se fosse vero, ma... ma... ma dobbiamo sbrigarci. E vedi che è completamente agitato. Quando gli hai parlato la prima volta, balbettava già. Quindi è il suo normale modo di parlare. Ma adesso diventa quasi incomprensibile in preda all'agitazione. Non ha niente né di... Come si dice? Non metti in soggezione, nonostante sia un agente di polizia. Io poso la mia mano sulla sua e lo guardo negli occhi e gli dico... Caro, non ti devi preoccupare, hai a che fare con la migliore cacciatrice di mostri criptorei del mondo. Quindi, tu dimmi dove devo andare e io risolvo il problema. Ho anche la mia nuova apprendista. È una fortuna. Signorina, e chi ne ha la testa? Un cello di saluto. Saluto. Io sono il capitano Corinne. Corinne, ho preparato un dossier se volete vederlo e appoggio un faldone sul tavolo. È principalmente vuoto, ma te lo gira, lo apre e vedi che ha una serie di ritratti all'interno, schiacciati probabilmente da un qualche artista della polizia con un carboncino, di un bambino abbastanza piccolo, con l'orecchia punta, i capelli tagliati corti, come vanno di moda nelle classi sociali più alte. Lui è il bambino. Io osservo molto attentamente quello che c'è nel disegno. Ok. Fammi un tiro su percezione e non ti dico il livello di difficoltà perché a seconda di quanto fai ti racconto. Diciotto. Ok. Vedi che il bambino è ritratto praticamente dal busto in su. Il vestito che indossa sembra essere un piccolo abito da caccia. Probabilmente è l'abito con cui è scomparso. Sai anche che vestiti del genere sono appunto più abituali nelle zone esterne della Repubblica rispetto a dove tu sei abituato a vivere perché ancora va di moda la caccia e quindi l'aristocrazia locale ha ancora campi in cui può cacciare, boschi in cui può cacciare. Oltre a quello nel disegno non c'è molto altro. Ovviamente non ci sono i colori per capire meglio di quale delle tre famiglie di elfi appartenga il bambino. Al di sotto vedi una mappa del parco, schiacciata sempre probabilmente dalla stessa mano, con una serie di cerchi disegnati attorno a specifiche zone del parco. Corinne sta in silenzio quasi aspettando che prendiate voi le redini della conversazione. Beh, c'è un pagamento immagino per questo? In realtà il resto della polizia arrossisce leggermente mentre te lo dice spostando la mano da sotto la tua. Il resto della polizia non crede che sia un criptorio e non vuole indagare sul parco. Quindi questo dovrebbe essere fuori dal libro della polizia, se mi spiego. Quindi sarebbe un lavoro senza pagamento? L'oggetto magico sarebbe il pagamento, il cuore del criptorio. Sì, ma intendo nessun anticipo, insomma, ecco. No, anticipi. Posso sborsare qualcosa di tasca mia al lavoro compiuto, ma non mi trovo. Ci mancherebbe, Corinne, ci mancherebbe. Puoi pagare il caffè e la tisana che abbiamo preso, però se ci tieni. Certamente. Mi sembra un'ottima idea. Non c'è problema. Beh, detto questo, direi che se tu non hai altre informazioni da darci, noi possiamo congedarci. Io ho altre informazioni. Oh, prego, allora. All'inizio, all'inizio volevo contattarvi per strane sparizioni di cibo nel parco. Alcuni gruppi di persone hanno perso il picnic con cui si erano recati nel parco e senza sapere come mai. Altri hanno riportato anche strani fenomeni atmosferici sopra il parco stesso, fulmini e tuoni, mentre il cielo era perfettamente sereno. E infine, e vi guarda come per decidere se dirvi o no anche quest'ultima informazione, alcune piante hanno iniziato a brillare al buio di notte. Non ho visto nessuna di queste cose, ma credo che siano abbastanza plausibili se c'è un criptorio. Certo. E come mai con tutti questi indizi i tuoi colleghi della polizia non credono che possa essere colpa di un criptorio? Diciamo che, e tiro un'occhiata a Olga mentre ti risponde, diciamo che le fonti per le ultime due cose non sono molto attendibili. Quindi in realtà l'unica prova che abbiamo è la scomparsa del cibo. E Olga tu sai che i criptori non si avvicinano mai a costruzioni e insediamenti di elfi o gnomi. Ok. Nessun criptorio si è mai avvicinato più di tanto a Ultima. Interagiscono sempre in qualche modo con le comunità umane, elfi o gnome dove compaiono, ma non si avvicinano mai all'abitato finché non sono abbastanza grossi per sentirsi sicuri. Quindi se ci fosse qualcosa di così grosso da causare fenomeni del genere all'interno del parco, cioè avrebbero proprio visto il criptorio. Ma riguardo ai fenomeni che ha detto prima, cioè ad esempio le piante luminose, piuttosto che fulmini e cose del genere, mi ricordano qualche tipo di mostro che ho già incontrato? Tira su Arcano. Anche qui il livello di difficoltà è 15. Buono, quindi ho fatto 17. Sì, soprattutto i cambiamenti climatici. Hai incontrato almeno un criptorio nella tua attività che provocava fenomeni del genere. Pardon, fenomeni del genere. Ok, che tipo di mostro era? Che tipo di criptorio era? Cioè ci sono delle caratteristiche... Comuni tra di loro. Per questo particolare tipo no, ma da quello che ti ricordi aveva usato fondamentalmente i cambiamenti ambientali nella zona attorno per bloccare gruppi di animali a cui poi dava la caccia. L'oggetto magico quando l'avete preso era un'arma, un pugnale direi, qualcosa del genere. Ma non sai quale fosse l'effetto perché hai venduto subito ovviamente al tuo... A chi ti aveva commissionato l'uccisione. Non so quanto Olga sarebbe... Olga, diciamo come si è approcciata la caccia a questi criptori o crium. Cioè li ha... È del tipo scientifico che ha iniziato a catalogarli per conto suo, ha preso campioni, agiare con occhi di criptori e cose del genere, oppure è più... va più a sensazione e a istinto. Lei va più a sensazione, sì sì. Ok. Cioè va a ricordo di ciò che ha già vissuto e le interessa più che altro trovarli e menarli, non è molto interessata al lato scientifico. Ok, ok. Allora quello che sai è quello che ho detto fondamentalmente. Non hai idea del sistema di classificazione che nel frattempo stanno sviluppando, quindi... Beh, mi giro verso il capitano e gli dico... Beh, ho già incontrato, credo, criptori del genere in passato, quindi non preoccuparti perché risolveremo la questione. Sembra risollevarsi un attimo e poi un lampo di curiosità, ma prendono spesso bambini e persone? Beh, no. Diciamo che questo effettivamente sarebbe il primo caso che mi capita in cui interagiscono in modo così ravvicinato con le persone. Però, come sai, si tratta di un fenomeno nuovo in continua evoluzione, quindi non possiamo dare nulla per certo e per scontato. Sono sollevato. Nessuno mi ha preso sul serio quando ho proposto la cosa stamattina. Il bambino è scomparso ieri notte. La famiglia è terrorizzata. Cercheremo di ritrovare questo bambino. E soprattutto di trovare il criptorio. Grazie. Volete che vi accompagni al parco? Sì, direi di sì. Ametista, tu nel frattempo, mentre stavi osservando ancora il dossier, vedi che c'è anche un foglio con tutte le informazioni che Corin vi ha riferito. Provo a rubarlo. Sì, sì, ma poi prendi... Ah, ok. Sì, sì, il faldone ve l'ha lasciato. Però ci sta, ci sta che istintivamente rubi il foglio, poi guardi un attimo, riveggi il contesto e lo rimetti a posto e prendi l'intero faldone. Meglio così. Ok, Corin si alza e va a pagare il conto per voi due. Ok, io ne approfitto per guardare Ametista negli occhi ancora una volta, abbasso gli occhiali leggermente giusto per avere proprio gli occhi liberi e le faccio capisci di cosa stiamo parlando. Mi immaginavo già abbassi gli occhialini che la caccia via inizio, tipo Sherlock Holmes. Io faccio un cenno di intesa e sono molto esaltata. Annuisco e rimetto lentamente su le lenti degli occhiali. Sebbene nel resto di ultima il cielo sia limpido e le nuvole sono soffici e illuminate di rosso dal tramonto, sopra il parco alleggia un temporale di nuvole a guzze feroci, viola, blu e nere. Un fulmine si schianta a terra da qualche parte nel parco e il tuono lo segue un istante dopo. Vedete che quando Corin arriva ci sono due altri poliziotti, due altri elfi, che stanno portando le persone fuori dal parco. Corin si ferma sbigottito osservando la cosa e fa... Mi sa che la situazione è peggiorata ancora, commentando l'ovvio. Gli altri poliziotti non sanno cosa fare. Vedete che mentre tentano di rimanere calmi per portare fuori le persone, sono abbastanza spaventati dai fenomeni atmosferici che vedono sopra il parco. Nessuno di loro ha la minima competenza per gestire questa cosa. Guardo Ametista, è ora di agire e inizio a camminare verso l'ingresso. Io la seguo. Mentre vi avvicinate verso l'ingresso del parco, Corin vi chiama da dietro e inizia a seguirvi titubante. Volete che vi accompagni o fate voi? Te la senti, giovanotto? Sinceramente? Io mi intrometto e dico, a me non sembra. Neanche a me. E allora vai a farti una bella tazza di tè caldo. Con rispetto rimango qui fuori. Se vi serve aiuto siamo qui. Grazie della disponibilità. E mentre vi allontanate ancora vi richiama. Ah, ho anche messo una mappa nel faldone, se vi serve. Grazie, grazie giovanotto. E dopo altri due passi. Fate attenzione. Io gli faccio dei cenni tipo smettila a metà tra un saluto e basta parlare, l'abbiamo capito. Ti prego, basta. Ecco, tra l'altro Olga, da quando ha visto che ci sono altri poliziotti in giro e che non c'è più soltanto Corinne, è abbastanza di fretta nell'andare ad agire perché, insomma... Mentre andiamo io posso chiedere una cosa a Olga. Olga? Dimmi. Ma come si sconfigo lo stick cryptore? Prendo il fucile che ho dietro la schiena, che è un moschetto, e inizio ad imbracciarlo. Con i pugnali? Sì, con tutto quello che vuoi, basta che tu sia forte e veloce. Io guardo il mio pugnale e annuisco. Guarda il pugnale e guarda il moschetto, guarda il pugnale e guarda il moschetto. Sai lanciarlo? Annuisco, molto bene. E allora funzionerà. L'entrata del parco è una rotonda con una piccola colonna al centro e la statua di un fauno seduto sopra al piedistallo. Un paio di panchine sono messe a semicerchio, formando una sorta di anfiteatro verso il parco, ma ovviamente non c'è seduto nessuno al momento. Guardando la mappa che vi ha dato Corinne, ci sono segnati due punti. Lo stagno più grande del parco, a est, è il Belvedere a nord. A est sono segnate ninfee, luce, a nord strani fenomeni atmosferici. Gli altri punti sono, seguendo la leggenda che ha scritto il povero capitano, sono altri furti di cibo nei giorni precedenti. Guardo Olga, le indico il punto degli strani fenomeni atmosferici, è come se le chiedessi se andiamo in quella direzione. Sì, tra tutte è la cosa che mi incuriosisce di più, quindi partirei proprio da lì. Inizia a piovere mentre raggiungete il Belvedere. È una pioggia calda, quasi un temporale estivo. Mentre salite verso questo tempietto, situato nel punto più alto del parco, su questa collina artificiale, che guarda sia sul parco che sulla città attorno, non siete le prime a raggiungere la zona. Attaccata alla ringhiera del Belvedere, con una piccola lanterna accanto, c'è una donna, un'agnoma, vestita con la divisa dei giardinieri del parco. Vestiti verdi con un grembiule di cuoio. Sembra agitata e quando vi vede arrivare si muove per raggiungervi. Siete con la polizia? Mi hanno detto che sarebbero usciti tutti. Sì, più o meno. Più o meno? Sì, deve andarsene, signorina. No, sì, sì, cioè, conosco il bambino scomparso, volevo dare una mano a cercarla, per quello sono rimasta nel parco, pensavo che tutti gli altri fossero usciti per il temporale. Ecco, diciamo che il bambino potrebbe essere scomparso perché potrebbe esserci qualcosa di molto pericoloso, quindi noi siamo qui per occuparci di questa cosa pericolosa. E abbiamo dei ritratti del bambino, quindi possiamo trovarlo da sole. Tacito. Si chiama Tacito? Tacito. Certo. Beh, possiamo occuparci di Tacito noi, non si preoccupi, ora qua forse è un po' pericoloso per rimanere. Vi hanno detto qualcosa sul bambino? Posso darvi delle informazioni prima di uscire? Di che tipo? Non so cosa vi serve per trovarlo, è un bambino sveglio, è sempre interessato alla storia del parco, mi ha sempre chiesto... Dove potrebbe essersi ficcato in questo parco? Gira sempre in giro, è sempre importunare uno o l'altro dei... dei giardinieri. Mi sembra di capire che si tratta di un ragazzino molto curioso, quindi immagino che nel caso in cui abbia visto qualcosa di insolito potrebbe essergli dato incontro. È quello che temo anch'io, ma insolito in che senso? Io pensavo semplicemente che qualcuno gli ha proposto di vedere qualcosa di nascosto nel parco e lui ha subito accettato. Io intanto tiro fuori il ritratto e le chiedo di confermarmi che è lui, che è tacito. Sì, sì, è lui, ha i capelli rossi e gli occhi verdi come un prato. Non ho capito in che senso insolito. Lei lo conosce bene, signora? Abbastanza. È un anno che ci incontriamo qui nel parco e mi chiede cose sulle piante, sulla storia del parco. Negli ultimi giorni sul sistema di irrigazione che usiamo, su... è interessato un po' a tutto. Immagino, immagino. E, beh, come dicevo, ce ne occupiamo noi. Lei forse è meglio che vada a riposare, ha già fatto molto, per tacito. Vi guardo un attimo, poi aggiunge, va bene. Va bene, se siete professionisti lascio a voi la cosa. Puoi dirlo forte. E se ne va, senza sapere cosa aggiungere. Ok. Io, tra l'altro, tutta questa conversazione l'ho fatta con il moschetto in mano. A dimostrazione della tua professionalità. Esatto. Salite per quello che rimane delle strade del belvedere. Percepiamo qualcosa. Quando siete sotto al... al tempio non percepite niente di strano. A parte il fatto che il temporale è un po' spaventoso. Soprattutto visto che avete visto la differenza tra il sole esterno e come piove all'interno. La giardiniera, per esempio, non sembra essersi accorta della... dell'incongruenza col meteo esterno. Probabilmente è sempre rimasta lì dentro. Ha visto la gente che veniva portata via, ma pensa che sia più che altro per le... per le indagini. Il belvedere è formato da questo tempietto e una zona dove appunto si può guardare il panorama. E la zona dove si può guardare il panorama è tutta impreziosita da un mosaico che disegna le zone del parco. Come una sorta di mappa. Io mi affaccio cercando di scrutare il più possibile le varie zone del parco e vedere se appunto vediamo qualcosa di strano che attira la nostra attenzione. Ok, tira su percezione. Io intanto invece guardo per terra, se trovo orme o qualsiasi indizio. Tira su indagare. Per percezione direi che è 20. Urca! Il livello di difficoltà. Visto la pioggia che sta scrosciando sul parco e la visuale che fondamentalmente ti fa vedere soltanto gli alberi e alcune cose. Posso usare il dado magia? Vuoi usare il dado? Sì. Sì, come? Come vuoi usarlo? Vuoi aggiungerlo semplicemente al tiro o hai in mente qualcosa per migliorare la situazione? Ah no, aspetta un attimo. Niente, se anche lo sommo non cambia una mazza però. Io ho letto male il numero. Ok. Vabbè. Sì, non è il 12, sono il dado 4. No, io ho letto male il numero che avevo fatto col dado 20. Sì, sì, lo so. Vabbè, era un 6, pensavo fosse un 16 invece era un 6. E niente. Io ho fatto 10. Per indagare era 10. Il livello di difficoltà. Vedi che la mappa ha una serie di decorazioni all'interno, in quello che sembra essere ottone o un qualche materiale del genere. E le decorazioni sono leggermente incavate rispetto al resto del mosaico. E l'acqua che si sta raccogliendo per il temporale scorre da alcuni punti della mappa verso altri. Come se fosse quasi un piccolo sistema di irrigazione in miniatura. Chiamo Olga, che vedo che tanto non sta praticamente vedendo nulla perché è troppo fitto per il temporale. E le faccio vedere invece questa cosa che ho scoperto. Pensi ci sia... Seguendo il percorso... Seguendo il percorso delle canaline, mentre osservate entrambe, vedete che l'acqua si raduna, raccoglie in un unico punto, che è il punto più basso dell'intera mappa, verso il boschetto a ovest rispetto a dove siete voi. Ma qualcuno ha scalpellato via le tessere che disegnavano cosa c'è lì al centro del bosco. Quindi l'acqua si raccoglie in questa piccola conca dove si vede il cemento sottostante. Temo che forse sia proprio lì che dobbiamo andare. Di sicuro sei un'apprendista sveglia, cara ametista. E anche io di solito parto sempre da dove possono esserci più guai in una situazione del genere. Quindi andiamo proprio lì. Mentre lasciate il tempietto e scendete le scale che avete appena percorso salendo, un fulmine colpisce qualche zona del parco di vicino e il tuono vi assorda per un secondo. Subito dopo, un urlo squarcia il silenzio. Un grido d'aiuto. Un grido d'aiuto. Un grido d'aiuto. Un grido d'aiuto. Un grido d'aiuto.